obbligo di green pass aziende al lavoro senza disagi albergatori pesaresi oliva cede la presidenza a costantini piada banina rimosso il chiosco dopo 16 anni sport petrovic si dimette da allenatore della vl benvenuti al telegiornale di oggi martedì 19 ottobre telegiornale che apriamo occupandoci di questi primi giorni di green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro il segretario della cna di pesaro urbino moreno bordoni ci offre quindi in questo primo servizio una panoramica di una novità che si sta assimilando senza eccessive criticità e con un diffuso senso di responsabilità per il momento la situazione è molto tranquilla non ci sono segnalazioni da parte dei nostri imprenditori di comportamenti non collaborativi da parte dei propri dipendenti e degli imprenditori stessi anche all'interno degli uffici della cna non ci sono problemi tutti hanno presentato il green pass quindi la situazione è sotto controllo speriamo che continui così anche nei prossimi giorni perché è un momento molto particolare in cui gli imprenditori hanno bisogno di lavorare devono pensare solo a lavorare perché c'è grande lavoro i problemi già sono stati creati dalle materie prime che sono sempre più difficili da trovare e anche dal loro costo che è salito in maniera esorbitante quindi non abbiamo tempo per questo tipo di problemi c'è un settore in particolare quello dell'autotrasporto che voi avete spesso sottolineato come uno dei più critici in questa fase assolutamente sì ci sono grandi problemi per quello che riguarda l'autotrasporto ma anche lì si sta lavorando per tornare alla normalità è un momento dicevo molto particolare dobbiamo rimanere uniti perché è un momento in cui la ripresa c'è il lavoro c'è e tutti questi intoppi non fanno altro che rallentare invece una progressione importante che deve vedere il nostro territorio che è pieno di attività manifatturiere come un territorio guida rispetto alla grande strategia che ci deve essere in questo momento per riprendere il cammino noi abbiamo molte possibilità nel nostro territorio tutte queste cose lo stanno rallentando e non è giusto la CNA ha spesso accompagnato questa fase anche dal punto di vista sanitario con le collaborazioni nel senso del camper vaccinale che sarà presente anche questa settimana a servizio delle aziende sì per tre giorni sarà a Vallefoglia presso la Tamoil nella zona industriale di Vallefoglia perché noi riteniamo di dare un contributo in questo caso all'Aso e alla Regione Marche per tutte quelle attività che hanno un unico grande obiettivo quello di evitare le chiusure noi pensiamo che ulteriori chiusure per gli imprenditori sarebbero davvero massacranti delle terie e tutto quello che si può fare come in questo caso noi riteniamo che la vaccinazione sia l'arma migliore che abbiamo contro la pandemia quindi che si può fare per dare una mano a tutte le persone che ancora si vogliono vaccinare e raggiungere finalmente quell'immunità di grege che ci permetterà di scongiurare per sempre le chiusure restano stabili i dati sui contagi e ricoveri nella nostra Regione Marche con 63 nuovi casi registrati oggi di cui 17 nella provincia di Pesarurbino i ricoveri restano 54 di cui 13 degenze in terapia intensiva oggi si è purtroppo registrato anche un decesso si tratta di una donna di 91 anni di Iesi che presentava un quadro clinico di patologie pregresse ed ora cambiamo argomento perché dopo otto anni e due mandati Fabrizio Oliva non è più il presidente degli albergatori pesaresi oggi all'hotel Alexander Museum Palace di Pesaro l'assemblea dell'APA Hotels ha applaudito Paolo Costantini come unico candidato alla successione della presidenza fino al 2025 vediamo il servizio si è tenuta questo pomeriggio all'hotel Alexander Museum Palace l'assemblea statutaria quadriennale degli albergatori di Pesaro che dopo otto anni e due mandati ha visto Fabrizio Oliva congedarsi dalla presidenza dell'APA Hotels unico candidato alla successione Paolo Costantini la cui nuova presidenza fino al 2025 sarà formalizzata nella giornata di domani Oliva lascia la presidenza col conforto di una stagione di ripartenza dalla pandemia ma anche con tante riflessioni sulle migliorie da apportare alla vocazione turistica cittadina Covid non ha portato ad andare in vacanza all'estero molti italiani che hanno frequentato i nostri litorali quindi il nostro paese, l'Italia integralmente e la mancanza di stranieri è stata compensata da questo fenomeno e quindi forse questo è l'unico lato positivo del Covid che ha dato piena occupazione almeno per i mesi di agosto, settembre e in parte anche in luglio e ci fa ben sperare anche per le prossime scadenze per gli alberghi annuali che sono i mercatini di Natale che per effetto del Covid negli ultimi due anni erano stati aboliti intanto bisogna crederci sul turismo e sulla destinazione turistica di Pesro per cui per fare questo bisogna investire fino ad oggi in termini di accoglienza e di promozione abbiamo ottenuto un'ottima collaborazione con il Comune di Pesro ma sulle opere importanti ci sono parecchie carenze per cui la prima questione che abbiamo avuto a modo di sottolineare sulla stampa è quella del Genica e della zona di Levante la seconda questione è quella degli Areneli la terza questione è quella della Movida la quarta questione è quella del rinnovamento del lungomare dove noi non possiamo arredare il lungomare con le lampade dell'IKEA per cui è su questo, visto che girano parecchi soldi che la nostra città deve investire e deve dimostrare che ci crede veramente nel turismo questa mattina è stato rimosso il chiosco Piada Marina dal molo del porto di Pesaro una procedura che era già calendarizzata entro la fine di ottobre e che oggi ha visto un autogru trasferire in un deposito la struttura che per 16 anni è stata fissata all'imboccatura del porto si concretizza dunque la direttiva dell'autorità portuale del medio adriatico secondo la quale su quella porzione di terreno demaniale è necessaria una concessione edilizia per trasformare la struttura mobile in fissa Piada Marina sparisce dunque un mese dopo la petizione con mille firme raccolte da pesaresi mobilitata nel vano tentativo di sollecitare una deroga alla normativa la commissione attività economiche del comune di Pesaro ha previsto di realizzare un bando per concedere attività su quell'area ma per il momento resta incerta l'attività lavorativa delle nove persone impiegate in Piada Marina ed ora parliamo di politica ieri vi abbiamo dato la notizia dell'elezione di Franca Foronchi a nuovo sindaco di Cattolica oggi abbiamo voluto chiamarla per sentire un suo commento diciamo che parte soprattutto dalla soddisfazione di un lavoro svolto insieme a questa coalizione a questo gruppo di donne e uomini ragazze e ragazzi con i quali ho cominciato a lavorare già da febbraio quindi un lavoro intenso prima nella formazione e nella struttura del programma e poi nel presentarlo stando insieme alla gente nel raccogliere anche tutti i suggerimenti quindi è un lavoro veramente bello perché così vuol dire che quando uno ci crede soprattutto ha una squadra dietro ci sono degli intenti in comune molto spesso le cose escono poi ovviamente anche il fatto che non fosse una sfida facile in quanto il sindaco uscente poteva candidarsi per altri cinque anni e quindi ero ben consapevole avendo già amministrato che questa era una cosa insomma non semplice però abbiamo capito che c'era voglia di cambiamento l'abbiamo interpretato quindi ecco la soddisfazione grande è quella di avere di esserci in qualche modo fatti capire e poi ovviamente essere un sindaco donna per la prima volta in un comune a me vicino perché io abito a due chilometri da Cattolica e diciamo così che è la città che frequento da sempre da quando ero ragazzina è una bella soddisfazione è una bella soddisfazione soprattutto così anche una bella responsabilità perché questa mattina insomma mi sento anche così questa responsabilità importante che fa parte insomma dell'amministrare che fa parte dell'amministrare che io conosco e che si mette insieme anche poi anche la bellezza di raggiungere degli obiettivi di fare qualcosa per i cittadini di costruire servizi insomma questo è importante da domattina insomma sarò in ufficio in comune quindi mi dedicherò a questo nuovo impegno che è sicuramente per me stimolante e di soddisfazione quindi sì sì da domani si comincia a lavorare Eravamo presenti anche noi questa mattina a Urbino per raccontare l'avvio del nuovo anno accademico 2021-2022 dell'Università di Urbino tra le novità più importanti il ritorno delle lezioni in presenza per gli studenti Il ritorno alla lezione in presenza degli studenti fa ben sperare per il futuro chiaramente è la prima inaugurazione del magnifico rettore appunto quest'anno il nuovo rettore Giorgio Calcagnini e chiaramente gli faccio un in bocca al lupo per il suo lavoro per questo settennato che praticamente lo vedrà impegnato lo sta vedendo già impegnato Quali sono i corsi universitari più richiesti dai ragazzi e quali invece soffrono di più in termini proprio di iscrizioni? Allora quelli diciamo più gettonati sono ormai da diversi anni in ambito scientifico ci sono biologie e poi è anche molto difficile fare questa cosa perché alcuni di questi corsi sono a numero chiuso quindi per esempio c'è biotecnologie che appena apre le iscrizioni un giorno dopo non ci sono più posti perché si prendono 75 studenti solo quindi però tutta la parte biomedica la parte di scienze motorie la parte delle lingue lingue soprattutto con un orientamento moderno che rivolgo al mondo delle imprese poi la parte dell'area della formazione primaria quindi si torna anche lì si capisce che diciamo questa domanda di nuovo di questo tipo di formazione deriva dal fatto che anche la società ha bisogno di formare e di avere diciamo dei nuovi maestri dei nuovi professori con un nuovo tipo di formazione economia sta andando bene da qualche anno non vorrei scordarmi qualcuno sul lato positivo sul lato negativo diciamo giurisprudenza sta soffrendo ma non a Urbino sta soffrendo un po' a livello nazionale mi sembra che l'anno scorso due anni fa il calo delle iscrizioni a livello nazionale di giurisprudenza si è callocato intorno al 38% quindi questo vi dà l'ordine e la dimensione qui anche qui è difficile dire quali siano i motivi uno sicuramente può essere la saturazione del mercato della professione privata ci sono corsi che stanno soffrendo un po' insomma per esempio storicamente anche geologia anche qui è difficile capire il perché perché siamo un paese che avremo tanto bisogno di geologi e quindi probabilmente o c'è da proporre qualcosa di innovativo in questo caso ma insieme anche alle istituzioni perché poi sono anche le istituzioni principali diciamo fruitori delle nuove figure professionali vi ricordiamo che lo speciale realizzato all'università di Urbino andrà in onda la prossima settimana martedì sera alle 21.20 in prima serata su Rossini TV ed ora cambiamo argomento è stato venduto all'asta il noto hotel cruiser del lungomare pesarese di Viale Trieste la società UAPALA cede le chiavi al senegalese Gabriele Piantini nuovo proprietario che si è giudicato la struttura per 5 milioni e 420 mila euro Piantini ha abbattuto il gruppo riminese guidato da Orfeo Bianchi già titolare dell'hotel Flaminio partendo dalla base d'asta di 4 milioni e 970 mila euro l'albergo viene ceduto a quasi 5 milioni e mezzo dopo una serie di aste andate deserte che un anno fa erano partite a un prezzo vicino ai 9 milioni torna in campo il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini come testimonial della regione Marche per il 2022 sono infatti iniziati e oggi le riprese della nuova campagna promozionale per gli spot che andranno in onda il prossimo anno le riprese degli spot si svolgeranno nei luoghi più suggestivi della regione 100 cose da sapere e fare a Pesaro ed intorni è questo il titolo della guida realizzata da Chiara Giacobelli che sarà presentata giovedì al cantiere Rossini in occasione degli stati generali del turismo 100 capitoli illustrati pensati per turisti e visitatori ma anche per chi a Pesaro ci vive e può approfondire curiosità meno note del territorio venerdì 22 ottobre all'hotel Due Pavoni di Viale Fiume si terrà il convegno d'approfondimento culturale sotto il cielo di Dante organizzato dall'associazione cultura identità di Pesaro un convegno su immagini parole e musica legata al sommo poeta con gli interventi a partire dalle 18.45 di Cecilia Casadei Massimo Baronciani e Umberto Bultrichini e parliamo ora di spettacoli perché inizia domani la 74esima edizione del festival di arte drammatica GAD quest'anno si terrà al teatro sperimentale in virtù dei lavori in corso al teatro Rossini allora abbiamo intervistato il direttore artistico Cristian della Chiara che ci presenta un'edizione del festival che partirà con un convegno dedicato allo scrittore pesarese Ercole Morselli il festival Livieri sempre un volume fotografico dedicato sempre ad Ercole Luigi Morselli degli spettacoli presenti al festival abbiamo avuto modo già di parlare quindi anche quest'anno otto spettacoli in concorso e due appuntamenti fuori concorso ritorno a a Pesaro una giornata una serata particolare dedicata a autori pesaresi con due monologhi rappresentati all'interno della stessa serata e un altro evento molto importante torna a Pesaro Roberto Mercadini quest'anno uno spettacolo dedicato a Dante i 700 anni della scomparsa di Dante quindi celebriamo anche questa importante ricorrenza con Roberto Mercadini che due anni fa venne qua a Pesaro con uno spettacolo dedicato ai migranti e ritorna sulle ali di un successo straordinario che incontrò a Pesaro ma che poi in realtà è proseguito e adesso direi che è una vera star assoluta del teatro siamo contenti di averlo tenuto a battesimo quando non era così famoso e ora lo è veramente a livello nazionale così come lo è il nostro festival e chiudiamo questa edizione con lo sport oggi infatti è stata una giornata di rivoluzioni in casa Carpegna prosciutto basket Pesaro con coach Aza Petrovic che dopo le ultime due sconfitte ha ufficialmente rassegnato questa mattina le sue dimissioni da allenatore della VL Aza Petrovic si dimette da allenatore della Carpegna prosciutto basket Pesaro dopo appena quattro partite di campionato il coach croato decide di lasciare la VL con cui aveva sottoscritto un contratto biennale con opzione per altri due anni e invece la doppia sconfitta con Fortitudo e Tortona secondo Petrovic è stata grave a tal punto da sconvolgere ogni prospettiva a medio lungo termine troppo secondo Petrovic lo scollamento fra una serie di dettami tecnici tattici e caratteriali da lui indicati e non seguiti dalla squadra e così arrivano le dimissioni comunicate ieri alla società e questa mattina alla squadra e subito dopo alla stampa con una conferenza convocata d'urgenza dopo le queste ultime due partite che VL ha giocato in maniera come ha giocato che penso che quando primo che si deve guardare nelle specchie è sempre alienatore non mi è piaciuto per niente perché partite si possono perdere in diversi in diversi modi però non si possono perdere in modi come noi abbiamo perso contro Fortitudo e specialmente contro in questa partita importante in casa contro Tortona rimango sulla decisione che interrompo il contratto con VL perché sono principale responsabile per quelle ultime due partite come ha giocato VL io in 30 anni come alienatore tutte le mie squadre o nazionali si si poteva vincere si poteva perdere però perdere in maniera come noi abbiamo perso quelle due partite io come alienatore non ho accetto io penso che come responsabile devo assumere le conseguenze la conseguenza è questa grazie a tutta la società però penso che questa decisione può aiutare componenti che restano qui prima di tutto a giocatori per mettersi a giocare insieme perché siamo solo dopo la quarta giornata hai tante gare di disputare e questo è un avviso a loro per mettersi insieme cominciare a giocare come squadra cominciare a correre a difendere a fare chimica dentro di loro ora la società deve pensare a un successore ma intanto il presidente Ario Costa ha messo sul piedistallo la scelta d'onore di Petrovic inchiodando ogni componente di squadra e staff alle sue responsabilità le responsabilità sono di tutti e adesso più che mai non è la colpa dell'allenatore ad alta bisogna fargli credo un complimento e dire poco bisogna fargli tanti elogi per il gesto che ha fatto ieri che non mi aspettavo ma che l'ha fatto col cuore di voler bene a una squadra a una società più che a una squadra ripeto a una società più che a una squadra perché la squadra di sicuro non l'ha aiutato di sicuro e lui invece ha aiutato molto questa squadra in tutti i modi sto vivendo una giornata terribile da ieri mattina più o meno 24 ore fa perché credo che non sia assolutamente colpa sua ma una serie di circostanze lo hanno portato a fare questo gesto da grande persona onesta e corretta qual è un allenatore dovremmo prenderlo mi sembra logico i tempi non lo so vedremo si fanno le cose con calma ripeto per me il miglior allenatore è qui alla mia destra quindi vedremo di valutare tutto e ci sarà sicuramente una decisione che prenderemo quando avremo deciso di prendere quella persona che possa aiutare la squadra a aiutare che possa mettere in riga la squadra perché la squadra così non va bene ma no non va bene non fraintendetemi il comportamento della squadra così non va e continuiamo a parlare di sport perché questa sera è dedicata la prima serata proprio allo sport locale uno sport locale che è in serie A stiamo parlando del calcio a 5 questa sera le 20.45 infatti Camedosson contro Italservice Pesaro chiaramente non ci sarà la replica del nostro telegiornale consueta le 20.40 ma vi ricordo che insomma il telegiornale lo potrete vedere poi in replica anche nella giornata di domani e proprio domani torna la nostra rassegna stampa segnatevi bene anche le repliche alle 7.20 siamo in diretta poi c'è la prima replica che arriva subito dopo alle 8.15 poi a mezzogiorno e 30 alle 14 e alle 18 la lettura dei quotidiani locali ho detto davvero tutto adesso per voi il meteo io vi auguro come sempre una buona serata ci rivediamo domani mattina allora puntuali alle 7.20 sul canale 633 per la nostra rassegna stampa grazie a tutti grazie a tutti